Allora Giacomo, insomma, quando l'hai messa dentro immagino tu sperassi in un finale diverso che toglie un po' di soddisfazione, anche se il pareggio, dobbiamo dire, no? Oggettivamente forse è il risultato più giusto stasera. Sì, c'è un po' di amaro in bocca perché quando fai gol verso la fine ti aspetti di... e magari meriteresti anche di portarlo a casa, però come ho detto te il risultato è giusto. Prendiamo il bicchiere mezzo pieno, l'importante era fare il risultato e mantenerli a distanza per poter raggiungere il nostro obiettivo che è quello di entrare nei play-off. Racconti il gol, perché l'area di rigore era molto affollata, ti sei smarcato bene, poi l'hai messa proprio all'angolo. Insomma è stato un bel gol, più bello anche di quello col Perugia, anche se quello forse significava di più dal punto di vista emotivo. Sì, un gol bello, lavoriamo tanto sulle palle inattive, questa è una cosa che abbiamo provato in allenamento, una sorta di trenino, è venuto bene, io sono riuscito a smarcarmi un po' nel casino che c'era nell'area e ho colpito bene, è stato, credo, un bel gol, poi sotto i nostri tifosi, un'emozione bellissima. Di 48 punti, mancano tre giornate alla fine, insomma direi che ci siamo, manca l'ultimo sforzo, non lì la classifica è molto corta per entrare nei play-off. Sì, il rammarico è proprio quello, che vincendo oggi, non ti dico che c'eravamo dentro, però mancava veramente poco, però come ho detto te, manca poco, io credo che facendo queste prestazioni ci entreremo e coroneremo il nostro sogno che è appunto quello di lottare per un posto in Serie B. Di solito l'Arezzo il gol dell'ex lo prende, stasera ne aveva avuto uno a favore, sei già tornato altre volte qua, Luca, insomma che effetto ti ha fatto anche stasera? Qui in poi hai cominciato la tua carriera da professionista? Sì, ho risultato perché era un momento troppo bello per segnare per la partita, ho rispetto per questa città perché come hai detto te, sono nato qua, sono stato bene e provo profondo rispetto, però il gol sotto i nostri ragazzi era troppo bello e ho risultato come mi è venuto. Poi soprattutto dedico questo gol a Masetti che si è fatto male, il nostro compagno e prima di tutto il nostro amico e gli auguro una pronta guarigione.